www.feyyaz.tv Ma io dico, una bella ragazza come te, con questo piede torto, una donna senza marito e ora senza nemmeno un lavoro. Ora è pure colpa mia. Devi pregare la beata, solo lei può farti il miracolo. Una commissione di periti ha ordinato degli interventi strutturali urgenti. Avete i fondi per le emergenze? Si manderanno via, si manderanno chissà dove. Ma che belli sti ricami, non pensavo foste capace ancora di fare queste cose. Zia, ma non è che me li daresti? Gli scarti? Si, capigli delle. Non sarebbe bello se lavorassimo tutte insieme. Suore operaio, usiamo i vostri ricami. Niente più scarti e ci dividiamo i guadagni. Il dottor Manzi vuole subito vedere il nostro catalogo. Catalogo? Quale catalogo? Con delle punte anche di erotismo, eh ragazzi? Oh mamma, ma... E' così, no? La faccia no, però, eh. Scusi sorella, se mi permetto, eh. Armita. Se sei stata tu a farmi arrivare fino a questo punto, aiutami Armita. Ti prego. Conforme? Ragazze... Cinquemila pezzi, tutte le taglie! Non lo faremo! Non lo faremo! Grazie a tutti.